E' in atto sotto i nostri occhi un processo che generalmente potremmo definire di terzo mondizzazione organizzata dell'Europa, con si fatta espressione alludo al fatto che oggi i plutocrati del mondialismo sans frontières hanno deciso sovranamente e sempre a tutela dei propri interessi di classe di deportare masse di nuovi schiavi dall'Africa, legittimando queste nefande pratiche con i nomi altisonanti e nobilitanti di accoglienza, integrazione, immigrazione di massa. Laddove invece, decriptando le parole della neolingua turbocapitalistica, dovremmo più opportunamente parlare di deportazione di nuovi schiavi dall'Africa, in una sorta di colonialismo 3.0, che supera e al tempo stesso intensifica, hegelianamente compie un aufebum, un superamento-conservazione, delle vecchie figure storiche del colonialismo. Un tempo gli europei svolgevano il traffico triangolare, deportavano gli schiavi dall'Africa alle Americhe e con i proventi rientravano in Europa. Successivamente fu la volta dell'imperialismo decriptato e criticato aspramente da Lenin come fase suprema del capitalismo. Con l'imperialismo colonialistico gli europei occupavano direttamente mano militare i territori africani e lì, in loco, sfruttavano la mano d'opera. Oggi invece, con il nuovo imperialismo neocolonialistico 3.0, si destabilizzano paesi con governi legittimi, come la Libia di Gheddafi nel 2011, e in tal guisa si costringono le popolazioni alla migrazione, impossibilitate ormai a vivere nella loro territorialità, nella loro storia e nelle proprie radici. Sicché quelle che vengono chiamate immigrazioni corrispondono, realiter, a processi di deportazione di massa organizzata sempre e solo dai signori del mondialismo, dai dominanti, come li chiamava Marx, i quali hanno come obiettivo quello di terzomondizzare l'Europa, ossia di deportare masse di migranti con i quali svolgere una triplice missione, se così vogliamo definirla. In primis, abbassare i salari, produrre una sorta di concorrenza al ribasso tra le classi lavoratrici, mediante l'inserimento di un esercito industriale di riserva di nuovi schiavi disposti a fare tutto a costi più bassi e dunque ad abbassare complessivamente i salari della classe lavoratrice. In questo senso, ben si evince il carattere di armi di immigrazione di massa, proprie dell'odierna deportazione di massa, come arma nelle mani dei dominanti contro i dominati, del capitale contro il lavoro. In secondo luogo, il turbocapitalismo mondialista e sans frontières impiega la terzomondizzazione dell'Europa per generalizzare il profilo senza diritti, destabilizzato, deterritorializzato del migrante. In altri termini, l'obiettivo conclamato del capitale non è, come esso stesso ripete pomposamente, l'integrazione dei migranti. È esattamente il contrario. L'obiettivo del capitale è la disintegrazione dei non ancora migranti, ossia non già la riduzione dei migranti al nostro rango, bensì la riduzione di coloro i quali sono ancora cittadini al rango dei migranti. Il capitale vuole estendere, generalizzare e rendere dominante il profilo del migrante. Con questo vengo al terzo punto. Il nuovo capitalismo globalizzato, che un tempo si fondava sulla figura antropologica del cittadino borghese proletario degli stati sovrani nazionali, sta oggi imponendo con una mutazione antropologica, come l'avrebbe definita Pasolini, il nuovo profilo del migrante apolide deterritorializzato, precario lavorativamente, instabile nel mondo esistenziale e migrante sul piano geopolitico, costretto a vivere come color che sono sospesi per riprendere le parole del poeta. Tutti diventeremo migranti. Questa è la condanna a cui ci sottopone il turbocapitalismo che sta terzomondizzando l'Europa tutta con l'obiettivo di colpire la classe che lavora e di procedere in direzione di una rapida e incessante opera di distruzione organizzata dei diritti e delle conquiste salariali. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!